commenta a caldo allora che hai già detto eh dimmi tu ti dico i problemi non ne ho avuti il tempo è stato quello che è stato poi andremo a vedere perché non ho più pari idea ho solo un po' la temperatura del motore in alto però io ti dico sono rimasto anche stupito perché qui dalla macchina era un binario forse pure troppo pista molto abrasiva mi dicono molto aderente c'era molto aderente rispetto a questa mattina la macchina sentiva molto più leggera quindi c'era da gomma vecchia a gomma nuova sono entrato veramente un binario sono rimasto fin scupito più di così non si può dire se tu hai fatto degli errori no nel senso che non ho una spiegazione logica va bene bocca al lupo